27 monumenti nazionali USA a rischio cancellazione. È uno dei colpi di spugna per i quali vuole essere ricordato Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, nei giorni scorsi, ha firmato un ordine esecutivo nel quale si legge il suo intento di azzerare, ridurre di estensione o rimodellare per topografia una lista di National Monuments che va dallo Utah alle Hawaii, dal Maine alle Isole delle Marianne. Sarebbe la prima volta che questo accade da quando, nel 1906, l'Antichites Act ha conferito all'inquilino della Casa Bianca la facoltà di istituire nuove aree protette. Un potere che è stato esercitato da 16 predecessori di Trump senza che nessuno abbia mai provato ad abolirne uno. Al punto che tale facoltà del primo cittadino americano viene messa in discussione a livello costituzionale dagli oppositori dell'iniziativa, che naturalmente non mancano. Tra i più recenti dei siti a rischio, nominati da Obama, si scorge il Beard Sears, nello Utah, uno stato dove il fronte dei conservazionisti è molto forte, ma anche quello di chi, come Trump, sostiene che in generale parchi e affini inibiscono le attività produttive e la crescita. Tra i nomi illustri, anche per il turista di oltrooceano, il Grand Staircase Escalante, ancora nello Utah, il Vermilion Cliffs, Arizona, e il Carizo Plain, la piana subdesertica californiana che dopo inverni particolarmente piovosi, come l'ultimo, fiorisce creando effetti cromatici inverosimili. E poi ancora, aree marine caratterizzate da coralli o da impressionanti catene montuose nel Pacifico, tra Hawaii, Samoa, Guam e Marianne.